Ciao a tutte e ciao a tutti. Ieri c'è stato un mio post in cui vi ho detto approfittate della possibilità di farvi leggere le carte tramite un salotto da Mario Foglia, questa persona esperta in tarocchi e non solo tra l'altro. Insomma siete arrivati in massa che abbiamo dovuto stamattina fermare proprio il modulo. L'abbiamo fermato, infatti trovate una scritta in rosso con scritto attenzione, tutto quello che si è detto ieri si è fermato perché ci vorrebbero sei mesi e tutti i giorni Mario Foglia a leggere per voi. Quindi l'abbiamo fermato per eccesso, grazie a Dio, di richieste. Nei prossimi giorni avrete la possibilità di vedere Mario Foglia con me che vi farà delle letture. Ovviamente è impossibile, ma proprio matematicamente impossibile, soddisfare tutti. Nell'eventualità, e molti di voi già lo hanno fatto, nella stessa pagina, e vi riporto il link qui sotto per YouTube e qui sopra nella descrizione sempre di Facebook, il link per chi vuole invece un incontro a tu per tu con lui. Molti, ripeto, l'hanno già fatto e stai un attimo, metti due dati e avrai il contatto, poi l'appuntamento e tutto quello che serve. Ma ringrazio veramente di cuore perché c'è stata un'attenzione a quel post e per me è stato importante perché questo progetto che sto e stiamo portando avanti dà grande soddisfazione. E a breve, tra l'altro, l'Accademia sarà in funzione. Quelli saranno momenti memorabili, momenti belli che ci porteremo per tutta la vita come ricordo. Grazie a tutti, ricordatevi, il link cliccate per chi è interessato a un incontro con lui. Ah, altra cosa, non è l'unico con il quale avrete a che fare con questa lettura, con strumenti, perché quali i tarocchi in questo caso, oppure Elena Cauteruccio per esempio, anche lei con le carte, ma non solo, perché non fa solo quello ovviamente, e altre persone. Ma non dico nient'altro, lo vedrete nei prossimi giorni. Un abbraccione grande, grande, grande a tutti quanti e grazie di nuovo.